Dopo due anni di stop i giovani sono tornati in centro per vivere la via Crucis in preparazione alla Pasqua. La diocesi di Prato è un aiuto della popolazione ucraina con la quaresima di carità. Partito dall'interporto il treno carico di aiuti umanitari per l'Ucraina. Buon pomeriggio da TV Prato con la prima edizione del giorno del nostro telegiornale. I giovani della diocesi di Prato sono tornati in centro per vivere il tradizionale appuntamento della via Crucis in preparazione alla Pasqua. Dopo due anni di stop dovuti alla pandemia ieri sera è stata organizzata una processione guidata dal Vescovo Giovanni Nerbini. Da Piazza San Marco a Piazza delle Carceri lungo via Le Piave. In centro storico è tornata la via Crucis dei giovani in preparazione alla Pasqua dopo gli anni di stop legati alla pandemia. Oltre un centinaio di ragazzi e ragazze delle parrocchie si sono messi in processione per portare la croce nei luoghi dove solitamente ci si ritrova con gli amici per passare una serata insieme. Diamo inizio veramente a questo alla ripresa delle processioni e noi come equip di pastorale giovanile ci teniamo a questo evento della via Crucis. L'anno scorso l'abbiamo fatto appunto in maniera della durante la zona rossa. Quest'anno ci teniamo veramente ancora di più a rivedere i nostri ragazzi, a toccare i luoghi dei loro divertimenti e anche a rigustare la nostra città in un momento particolare anche di ripresa. Durante il tragitto sono state lette delle testimonianze dedicate alle tante croci presenti nella dimensione quotidiana, dalla dipendenza da sostanze alla marginalità, dallo sfruttamento lavorativo alla violenza di genere. Per me stare qui stasera è un momento di, innanzitutto di aggregazione anche con i giovani delle varie parrocchie della città, ma è soprattutto un momento per avvicinarmi anche personalmente al Signore. Per me significa molta emozione perché per me è la prima volta che vengo a fare la via Crucis dei ragazzi giovani e anche in questo periodo buio stare tutti insieme è veramente una felicità anche per dimostrare alle persone che siamo forti. Al termine del rito i partecipanti hanno letto tutti insieme una preghiera per invocare la pace in Ucraina e la fine della guerra. Continuiamo ancora a parlare di ambito diocesano perché la Chiesa di Prato si mobilita in aiuto della popolazione ucraina con la Quaresima di Carità. I particolari sono nel servizio di Arianna di Rubba. Questo fine settimana in tutte le parrocchie della Diocesi di Prato torna la Quaresima di Carità, la tradizionale raccolta di offerte lanciata ogni anno dalla Caritas in occasione della Domenica delle Palme che quest'anno cade il 10 aprile. La Caritas diocesana ha scelto di dedicare la raccolta delle offerte per aiutare e sostenere le famiglie in fuga dall'Ucraina a causa del conflitto. Appoggeremo tutti i progetti che verranno portati avanti sia da Caritas italiana che in contatto con Caritas ucraina a sua volta, sia anche per continuare quel rapporto particolare che abbiamo, che ha prato con Lublino, con la Caritas di Lublino in Polonia che appunto ha ricevuto già i materiali inviati, appunto alimentari, vestiari eccetera, ma che appunto rimane lì a accogliere i profughi e addirittura con mezzi propri porta anche del materiale all'interno dell'Ucraina. La Caritas continua inoltre la raccolta in denaro sul proprio conto corrente a sostegno della popolazione ucraina. Le offerte possono essere versate sul conto intestato a Caritas diocesana di Prato, a Libano in sovraimpressione, scrivendone la causale emergenza ucraina. Ne approfitto per ringraziare tutte le persone che hanno già dato qualcosa per questo scopo. Vorrei però ringraziare in particolare due realtà più visibili perché appunto qua sono venuti portando le offerte raccolte la comunità cattolica cinese con il loro parroco Don Pietro che è venuto appunto, ci ha donato 3.300 euro e poi anche io sono cappellano del carcere e anche quindi il gruppo dei detenuti che ha raccolto all'interno del carcere di Prato 600 euro. Ringrazio queste persone in particolare ma chiaramente tutte quelle che già sicuramente hanno fatto anche un'offerta utilizzando l'Iban e quelle che appunto potranno farlo anche da qui in avanti. Sono 250 i nuovi casi di positività al Covid emersi a Prato e provincia nelle ultime 24 ore e anche oggi come nella giornata di ieri non si registra alcun decesso. A livello regionale sono invece 4.134 i nuovi casi di positività, 7 i decessi. Oggi sono stati eseguiti circa 28.000 tamponi dei quali il 15% è risultato positivo. I ricoverati sono 852, 23 in meno rispetto a ieri. Aumentano invece i posti occupati in terapia intensiva. Sono 42, 4 in più. Dopo questa parentesi dedicata al Covid riparliamo ancora della guerra in Ucraina perché un treno carico di aiuti umanitari raccolti dalla Toscana è partito ieri sera dall'Interporto. Era presente anche il capo dipartimento della protezione civile Fabrizio Curcio. È partito in serata dall'Interporto il treno speciale carico di aiuti umanitari a sostegno della popolazione ucraina colpita dalla guerra. Alla partenza rappresenta anche il capo del Dipartimento della protezione civile Fabrizio Curcio. Il convoglio, composto da 14 vagoni per un totale di 400 tonnellate di materiale, è stato organizzato dalla Regione Toscana insieme al Gruppo FS all'Interporto della Toscana Centrale. Raggiungerà il confine tra Polonia e Ucraina il 13 aprile. Dal centro di smistamento polacco gli aiuti, genere alimentari e medicinali saranno poi portati in Ucraina. Lungo il percorso il treno si arricchirà di altri 14 vagoni e materiale. Una prima sosta sarà a Verona, poi una seconda in Friuli. Noi siamo abituati insieme alle Regioni, alle altri organi dello Stato, ai prefetti, ai sindaci, ad affrontare le emergenze che la natura ci mette a disposizione, che gli incidenti ci mettono a disposizione. La guerra è una cosa diversa, è una cosa diversa anche dal punto di vista dell'approccio e quindi diventa ancora più doloroso cercare di fare il massimo per portare un minimo di conforto lì e il massimo e il meglio dell'assistenza qui. Sarà veramente un treno che da la Toscana per l'Ucraina si trasformerà in l'Italia per l'Ucraina. È la nostra voglia di essere vicini da un punto di vista umanitario. Hanno collaborato tutti i comuni, le province, la COP, la CONAD e naturalmente le straordinarie organizzazioni di volontariato della nostra Toscana, Misericordia, Pubblica Assistenza, Croce Rossa. È il treno che raccoglie ciò che gli oratori, le associazioni, le case del popolo, i circoli culturali hanno magari su un moto spontaneo raccolto ma poi dicevano come facciamo a mandarli là. Ecco, questo è il treno che raccoglie tutto ciò che è il cuore grande della Toscana. La nostra città ha contribuito in maniera significativa al carico con numerose donazioni e alla logistica. In tutto questo c'è il logo della nostra città e il lavoro del comitato Prato Pro Emergenze che ha sostenuto, ha dato il là, ha individuato l'opportunità di far partire quello che poi è diventato quello che vi è stato appena raccontato. Per noi, per me, penso per tutta la nostra comunità è un punto d'orgoglio ma è anche un senso di aver fatto quello che c'è da fare in questo momento, dare una mano. Parliamo di sport, in particolare di calcio. Il Prato è impegnato in trasferta a Fidenza sul campo del Borgo San Donnino. I ragazzi di Mister Favarin sono chiamati a confermare il buon momento della squadra bianca-azzurra reduce da quattro vittorie nelle ultime cinque gare di campionato. Il servizio è di Massimiliano Masi. Uno, due, tre, alza, il volume nella testa, è qui dentro la mia festa. Baby, uno, due, tre, alza, il volume nella testa, è qui dentro la mia festa. Le tre reti rifilate all'Atrizium hanno rilanciato il Prato che con quattro vittorie nelle ultime cinque partite ha definitivamente chiuso la pratica riguardo la permanenza in categoria. Abbiamo fatto tanta fatica per arrivare qua e lasciare tutto perché siamo già convinti di aver già ottenuto quello che dovevamo ottenere sarebbe brutto. Quindi andiamo là con grande attenzione e cercare di fare risultato perché a questo punto insomma ci piacerebbe un pochino alzare l'asticella. Nella 32esma giornata di campionato il Prato sarà impegnato in trasferta a Fidenza sul campo del Borgo Sandronnino. Formazione attestata all'ultimo posto in classifica che sta lottando per evitare la retrocessione diretta in eccellenza. Formazione di tutto rispetto, un po' come l'Atrizium che è venuta domenica scorsa che è una squadra che sicuramente ha dei mezzi tecnici importanti, buoni giocatori, probabilmente la classifica la sta un po' penalizzando però ci aspettiamo una partita difficile contro una squadra che sicuramente farà di tutto per uscire da là sotto. Per quanto riguarda la formazione da mandare in campo, preso atto delle defezioni di Alexi Cenoferi, ancora infortunati. Il tecnico bianco-azzurro Giancarlo Favarin pare orientato a confermare l'undici che ha superato in casa l'Atrizium. Ma se non ci sono intoppi dell'ultimo momento penso che la squadra giustamente sia riconfermata. Poi durante la partita può succedere qualcosa che può far cambiare uno o due giocatori, però insomma intanto la partenza dovrebbero essere loro. Restate con noi, vi ricordiamo che alle ore 18 in diretta dal Duomo di Prato trasmetteremo in diretta appunto la celebrazione della messa prefestiva. L'informazione invece torna questa sera alle 20.30 con il nostro telegiornale ma per essere sempre aggiornati su quanto avviene a Prato e in provincia potete consultare il nostro sito tvprato.it Arrivederci e buon pomeriggio.